Adesso assaggiamo il Terlaner Novadomus Riserva, che è il nome del nostro vecchio castello sopra Terlano, che comunque è sempre un Terlaner, il nostro ovaggio storico, che ormai facciamo da oltre 100 anni. Comunque la selezione è caratterizzata da una vinificazione diversa, Rudy. Sì, qui cerchiamo di usare la vinificazione tradizionale, usiamo un po' la botte piccola ma anche la botte di media grandezza, comunque viene vinificato tutto in botte, in legno, per circa un anno. Comunque su questo vino lasciamo fare anche la malolattica e cerchiamo di fare un vino molto complesso, profondo, di grande struttura, ma soprattutto anche di eleganza, di finezza e di grande carattere territoriale. Anche come stile direi che è uno dei vini più longevi che facciamo, che comunque se guardiamo in Enoteca abbiamo praticamente quasi tantissime alte fino al 1954, notiamo anche che hanno una grandissima o una bellissima evoluzione. Per questo tu cosa diresti Rudy? Come beva quando arriva un Ovadomos alla sua beva ottimale? Ma io direi minimo di 5 anni, aspetterei, volentieri anche di più, solo oggi come oggi sappiamo che bisogna avere pazienza e dare tempo ai vini, tempo di evoluzione, ma comunque sta a parte bottiglie che avevano 15-20 anni, proprio è una meraviglia bere queste vecchie annate. Comunque facciamo anche un stoccaggio di Magnum per dire che diamo la possibilità ai nostri clienti anche di acquistare delle annate, però per la quantità limitata soprattutto a ristoranti di un certo livello. Però chiaramente un vino per questa complessità, anche mineralità, che è chiaramente tipica per Terlano, è un grande vino anche di abbinamento, un vino che per la sua vinificazione, per la sua sostanza, è un vino che con la malolatica, con l'armonia che ha in bocca è quasi come un grande rosso perché ha la potenza, per questo anche nell'abbinamento è un vino che magari non si usa solo come tipico bianco, chiaro si può essere abbinato a piatti di pesce, però piatti di pesce già di un certo livello, di una certa struttura come col pesce al forno, magari col pomodoro, con le olive, diciamo dei piatti abbastanza ricchi, però anche piatti di carne andrebbero molto bene in combinazione o anche con formaggi di evoluzione, è un vino che si sposa molto bene e ti diverti anche molto, poi sia anche nelle diverse annate. Bene, allora ci vediamo al bicchiere. Salute. 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 Salute.